Dopo il periodo del lockdown, durante diciamo il Covid-19 e il coronavirus, quello dei disturbi del sonno è diventato veramente un problema che riguarda praticamente tutti noi, me compresa. Voglio chiedere a un endocrinologo, nutrizionista clinico, il professor Corrado Pierantoni, che collegamento c'è tra Covid-19 e disturbi del sonno? Allora, il collegamento è evidente perché chiaramente con questa storia, questa paura, lo stress aumentano, anzi diminuiscono la produzione degli ormoni del benessere, aumentano quelli dell'eccitabilità e quindi non è un caso se l'insonnia è aumentata in questo periodo. Tu pensa che le stime ultime superano il 45-50%, le persone che hanno dei disturbi del sonno in questo periodo, 45-50%... Ma come possiamo affrontarlo questo problema? Perché è un danno oggettivo della qualità della vita? Sicuramente, guarda, io dal mio canto, quindi dal punto di vista nutrizionale, posso dire innanzitutto che cosa non bisogna fare. Esatto, cosa non bisogna fare? Non dobbiamo prendere, non dobbiamo esagerare col caffè, col tè, con le sostanze eccitanti durante la giornata, ma soprattutto la sera. C'è gente che è ancora abituata a prendere il caffè dopo cena e può portare problemi. Così come può portare problemi, bere molto alcol, perché quello porta a un'iniziale fase di stornimento, ma poi una rievolizzazione può portare al risveglio. I disturbi del sonno sono di tre tipi, Rosana. L'iniziale, cioè non riesco a prendere sonno, sono lì fisso davanti alla televisione, ok. Il secondo è quello che mi porta a risvegliarmi, perché magari il mio cervello dopo una prima fase di addormamento... Sì, quello tipico, che uno si sveglia alle tre di notte come se l'avessero scosso per svegliarlo. Questo è proprio da stress. E poi c'è anche quello dei risvegli frequenti, perché anche dormire e poi risvegliarsi, risvegliarsi e dormire, quello però è più legato a un'intossicazione. Ma quali sarebbero invece gli alimenti che lei potrebbe suggerire? I cibi serotoninergici, i cosiddetti serotoninergici, cioè tutti i cibi che vanno a stimolare la produzione di quei neurotrasmettitori che ci fanno stare bene, quindi sia della serotonina che della melatonina, i cibi che contengono lo triptofano. E questi sono soprattutto i carboidrati, quindi perché no un piatto di pasta va benissimo anche la sera. La sera? Un bel risotto durante la sera. Poi frutta e verdura, frutta e verdura cucinate chiaramente al vapore, insomma in maniera che non si perda l'acqua di cottura, che serve per la reidratazione, per la disintossicazione. Ecco soprattutto se durante la notte bisogna svegliarsi più volte perché magari c'è bisogno di andare in bagno, allora c'è bisogno di reidratarsi. Nei risvegli frequenti questo succede sempre. Quindi diciamo che a parte il consiglio fondamentale che è quello di evitare tutte le sostanze eccitanti, cercare di arricchire la propria alimentazione con delle sostanze ricche di componenti che stimolino la serotonina, che è l'ormone diciamo del benessere. Per finire le mandorle, le famose mandorle, gli omega 3, ma perché contengono anche sostanze così come il cavolo, perché stimolino, contengono cromo, stimolino, hanno potassio, hanno magnesio e quindi riescono a farci stare un pochino. Quindi anche gli integratori possono essere un aiuto, tipo il cromo, tipo... Sicuramente, sì. Bene. E speriamo di dormire meglio perché dormire bene significa vivere meglio. Disturbi del sonno. I dati ufficiali dicono che sono oltre 9 milioni le persone che dichiarano di soffrire di problemi legati all'insonnia. Allora vi voglio proporre una tisana rilassante che favorisce il sonno, che mi ha suggerito il dottor Antonio Colasanti, che è un farmacista naturopata, che è un po' esperto di questo punto di erbe, di tisane, decotti, e mi ha consigliato queste, vedete tutte queste erbe qui, passiflora, fiori d'arancio, melissa, tiglio e biancospino. Come dobbiamo prepararla? Allora, tutto in dosi uguali, 20 grammi di passiflora, 20 grammi di fiori d'arancio, 20 grammi di melissa, 20 grammi di tiglio e 20 grammi di biancospino. Che cosa facciamo? Ci facciamo preparare questa miscela dal nostro erborista e poi prendiamo un cucchiaio e lo versiamo all'interno di una tazza con circa 250 ml di acqua che ha bollito. Quindi mettiamo a bollire l'acqua, spegniamo il fuoco e aggiungiamo questo cucchiaio generoso di questa miscela di erbe. Copriamo e lasciamo in infusione per circa 15 minuti. E possiamo dolcificare con un cucchiaino di miele al tiglio. Tutte queste erbe insieme hanno proprietà che favoriscono il sonno, calmanti, alcune antispastiche e quindi proprio aiutano a rilassare, aiutano a dormire meglio, a sentirci meglio. Eccola qui la nostra tisana. Come vedete qui dentro ci sono le erbe che sono rimaste in infusione. Dolcificata con un pochino di miele, davvero gustosa e buon riposo.